Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi voglio farvi un veloce video per mostrarvi il nuovo sito del nostro negozio sponsor Gioco Libreria Simola con cui, come sapete, stiamo collaborando da oltre un anno. Il sito è stato rifatto completamente ed è adesso di facile lettura, molto più facile rispetto a prima e abbiamo una barra qua giù con tutti quanti i sottomenu che poi scendono a cascata e da tendina e soprattutto il sito risulta essere, rispetto a quello precedente, molto 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 più veloce ed è una cosa che facilita anche appunto nella lettura delle varie pagine ma soprattutto nell'acquisto sul portale. Come vedete nella home principale ci sono i nuovi arrivi che riguardano tutto perché ricordo che è una cartolibreria quindi non è soltanto giochi da tavolo ma anche roba per la scuola, libri e quant'altro. In più abbiamo i nuovi arrivi che sono tutte le cose nuove qua giù. Abbiamo gli oggetti in primo piano che sono ovviamente quelli più importanti o comunque che hanno avuto un interesse maggiore e poi abbiamo, ho missato un click qua giù, abbiamo i best seller, ecco qua, che sono invece tra i prodotti più venduti sul sito. Come potete vedere andando qua su abbiamo la lista di giocattoli, giochi e modellismo, puzzle, scuole e cartoleria, libri, diari agende e outlet quindi tutta quanta la roba che fondamentalmente è in sconto. Andando sugli oggetti che si trattano sul canale, giochi e modellismo, abbiamo giochi di ruolo, giochi da tavolo divisi per famiglie, per esperti quindi anche potete andare direttamente a botta sicura su un tipo di gioco che volete cercare e andando, ad esempio, visto che era anche di quello che volevo parlare, su Warhammer Age of Sigmar abbiamo tutti quanti i nuovi prodotti, ovviamente in alto vengono sempre messi quelli nuovi aggiunti al catalogo e scendendo, vedete, c'è direttamente il tasto compra e quando andate ad acquistare un oggetto, mi raccomando, usate sempre, al processo dell'acquisto usate sempre, sono con l'account di mia moglie, il codice discount Coridan che è quello di sempre, Coridan 7, come vi ricordate, ma da qui a una settimana la Gioco Libreria Siamo l'ha voluto fare una promozione e l'ha alzato, me l'ha alzato al 10% di sconto quindi quando andrete ad usare il codice da qui a mercoledì 19 usate, invece che il codice sconto Coridan 7, usate il codice sconto Coridan 10 così avrete uno sconto del 10% su tutti i vostri acquisti e come vedete, spedizione e omaggio per ordini superiori ai 79 euro giusto appunto, parlando di Age of Sigmar vi faccio un pochino per vedere le ultime cose che sono arrivate nel negozio negozio soprattutto che vende anche White Dwarf quindi se vi volete abbonare direttamente al White Dwarf, alla rivista ufficiale della GV lo potete fare tranquillamente tramite il portale del nostro negozio sponsor e a tal proposito, andando sul sito di Warhammer Community la GV ha annunciato che fra le tante novità di quest'anno ci sarà anche la terza edizione tra l'altro i vampiri fanno paura, lasciamo perdere, non li guardo perché poi mi sento male fino a che non ce li ho uscirà anche la terza edizione, che è l'ultima è stata del 2018 del loro Warhammer Age of Sigmar e hanno già fatto vedere un pochino di artwork, un pochino di immagini quello che uscirà, va bene, qui ci sono i nani per la maggior parte e gli orchi ed hanno fatto vedere qualche anticipo di miniature dei nuovi perché nella nuova scatola base che verrà fatta sicuramente ci saranno gli Stormcast e guardate direttamente al solito il dettaglio delle nuove miniature per queste specie di Space Marine del Fantasy e questa nuova miniatura qua giù e vi ricordo che da giugno uscirà la nuova scatola base della terza edizione di Age of Sigmar che non fate come città maledetta che poi vi lamentate che il bagarino ve lo vende a 300€ perché andranno a ruba nel giro di un giorno la gioco libreria Semola avrà dei pre-order a breve non c'è ancora, anche perché la GV non ha ancora comunicato ai venditori e negozi il prezzo della scatola e non l'ha ancora presentata ma uscirà a giugno, questo l'hanno annunciato quindi quando sarà disponibile dal sito della gioco libreria Semola ci farò anche un video al riguardo sarà ordinabile e mi raccomando ordinate la subito il primo giorno col codice sconto Coridan 7 perché poi sicuramente nel giro di 48 ore andrà fuori produzione come Warhammer 40.000 Endomitus e non si troverà più io colgo l'occasione per ringraziare come sempre il nostro negozio sponsor e vi invito a visitare il sito della gioco libreria Semola usando sempre il nostro codice sconto sito completamente rinnovato in una nuova veste grafica molto più pulita, più scattante, più veloce e sicuramente di facile lettura ciao ragazzi, alla prossima